Oroscopo 2019, previsioni astrologiche. Il 2019, è un anno di grandi opportunità per tutti i segni, da cogliere al volo. Le stelle accompagneranno il percorso di ognuno di noi, e non mancheranno di darci il loro appoggio, e annunciarci i pericoli che potremo incontrare lungo il percorso della vita. I segni dacqua, dovranno avere maggiore cautela in amore, specie allinizio del nuovo anno, ma avranno invece situazioni molto gratificanti nel settore lavorativo. Grandi opportunità anche per i segni d'aria, che avranno l'appoggio di molti alleati astrali, sia riguardo l'amore, che la carriera. Nettuno, sarà l'elemento di congiunzione, tra sentimento e creatività. Ordinati e razionali, i segni di fuoco potranno aspirare, grazie al favore di due forze autorevoli, come Giove e Plutone, alla realizzazione di forti ambizioni, ma metteranno a rischio i rapporti stabili. In arrivo cambiamenti per i segni di terra, che porteranno nuovi ruoli, e anche nuovi amori. Ecco, segno per segno, i consigli provenienti dall'oroscopo delle stelle, per tutto il 2019. Ariete. Sarete protagonisti indiscussi in questo nuovo anno, che si prospetta intenso fin dall'inizio. Con Saturno e Plutone finalmente alleati, avrete un appoggio sicuro su cui contare, e poter avviare senza esitazioni i vostri progetti. Anche in amore rinsalderete i rapporti altalenanti, e basterà un vostro passo in avanti per sanare qualsiasi contrasto. Toro. Attenti a non rivendicare ciò che non vi appartiene più, se una storia d'amore è finita, rinunciate, e ricominciate da capo. Chi invece ritroverà la stabilità affettiva potrà vivere serenamente. Toro. Il 2019, inizia con un energico urano, che vi metterà addosso l'adrenalina, e vi farà partire spediti, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non mancheranno le incomprensioni col partner, che non appoggerà le vostre scelte, ed essere tra due fuochi non sarà affatto piacevole. Gemelli. Sarà un anno molto importante per le relazioni sincere, soprattutto grazie alla forte influenza di Venere. Raggiungerete un perfetto equilibrio, e questo vi aiuterà moltissimo, anche sul lavoro. Chi vi frequenta, vi troverà più simpatici, e anche più affascinanti. Cancro. Naturalmente dovrete meritarvi il successo, ma la sicurezza che vi dà la persona amata, influenzerà notevolmente le relazioni sociali, e tutto procederà senza intoppi. Le vostre abilità comunicative, proprie del segno dei gemelli, faranno il resto. Cancro. Cancro. Leone. Cancro. 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 ! Cancro. 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 They. Cancune. Cancro. Cancro. Abbattere le vostre battaglie. Bilancia. Il 2019, promette bene dal punto di vista finanziario, e con Giove al vostro fianco, avrete la possibilità di potenziare le vostre entrate. Plutone vi offre un appoggio ancora più completo, ed estende il suo raggio dazione nelle amicizie, che saranno un vantaggio non di poco conto, per farvi conoscere. Le ostilità in amore, quest'anno praticamente scompariranno, ma dovrete mettere in atto delle strategie mirate, se volete che le relazioni durino di più. Avete tutte le carte in regola, per trovare l'amore vero. Basta solo volerlo. Scorpione. Sarà un anno di soluzioni valide, per molti problemi che vi trascinate da tempo. Molte situazioni che vi hanno visto impegnati e stressati, si concluderanno positivamente. La protezione di Giove vi trasmette felicità a piene mani, avete carisma, e fascino, e questo vi darà autorevolezza, nella gestione dei rapporti con gli altri. Emanerete energia positiva, che attrarrà non solo la persona che avete al fianco, ma vi aiuterà a trovare amici, e persone sincere, su cui fare affidamento. L'oroscopo raccomanda però, di non lasciare che il successo vi dia troppo alla testa. Sagittario. Si apre un anno eccellente, per voi del Sagittario. La stimolante presenza nel segno, di Giove, e Mercurio, è in grado di darvi lucidità, capacità intellettiva, e tanta voglia di espandere le vostre conoscenze, in campo professionale. Giove. Capricorno. La spinta di Urano, sin dai primi giorni dell'anno, accentua la vostra vivacità. Ma qualità come, diplomazia, e affettuosità, saranno i segni che vi distingueranno. A completare il quadro, sono la vostra determinazione, e una volontà di ferro, incrollabile anche di fronte ad ostacoli di grande entità. Plutone. Plutone vi invita comunque ad essere più prudenti, nelle scelte professionali, forse, un rinnovo di ambienti, e di frequentazioni sociali, sarebbe un bene, per mettere in evidenza il vostro talento. Niente mezze misure quindi, neanche in amore. Darete sempre il massimo, anche nei sentimenti. E chi vi ama, lo sa bene. Acquario. Acquario. Vi aspettano programmi importanti in questo nuovo anno, e anche situazioni personali complesse da risolvere, che devono essere affrontate. Potrebbe verificarsi anche uno scontro iniziale, con chi amate, il che vi metterà in seria difficoltà. Giove e Marte vi invitano alla prudenza, ma annunciano problemi sulla gestione della vita privata, con la professione, che non volete assolutamente abbandonare. Giove. In vostro aiuto arriverà Plutone, che metterà sulla vostra strada, appoggi importanti, e amicizie, che vi permetteranno di realizzare le vostre, ambizioni. E pace sarà. Pesci. Dinamici, e sempre particolarmente emotivi, sarete coinvolti in eventi e iniziative, niente affatto noiose. Giove vi facilita i compiti, e vi sentite autorizzati ad azzardare, e ad osare, anche in campo finanziario. Potrete imbattervi in occasioni ripetibili, che dovrete cogliere, senza pensarci un secondo. Loro scopo, indirizza le vostre aspirazioni lavorative verso importanti settori, ma anche in amore sarete più spregiudicati, e la vostra vivacità, sarà un autentica calamità, per attirare passioni fatali. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.